Buongiorno a tutti ragazzi miei, bentornati al nostro laboratorio teatrale web. Per fortuna ci sono i potenti mezzi della tecnologia che se usati bene ci aiutano ancora a poter fare questo nostro laboratorio teatrale, a poter costruire oggetti, personaggi, teatrino, a poter leggere la storia del nostro amico principetto e anche a divertirci insieme, anche se ognuno a casa sua. E allora, siete pronti per l'avventura? Iniziamo la lettura. Capitolo 13 Nel quarto pianeta ci abitava un affarista. Ecco il nostro affarista. Stomo era talmente preso dall'affari che quando arrivò il principetto mancarzò la capoccia. Buongiorno, gli disse il principetto. La cica aveva spinta. 3 più 2 fa 5, 5 più 7 12, 12 più 3 15, buongiorno, 15 più 7 fa 22, 22 più 6 28, non c'ho tempo per riappicciarla. 27 più 5 31, uffa, dunque fa 500 milioni 622.631. 500 milioni de che? Disse il principetto. Ehm, stai sempre lì? 500 milioni de... non lo so, c'ho talmente tanto da fa, io sono uomo serio, mica mi sto a divertì. 2 più 5 7, 500 milioni de che? Gli aridimondò il principetto, che non rinunciava mai a una dimanda dopo che l'aveva fatta. L'affarista arzò la capoccia. Da 504 anni che abito su sto pianeta, ma ha rotto le scatole solo tre volte. Ma hanno rotto le scatole solamente tre volte. La prima volta è stata 22 anni fa, quando cascò una cosa strana che veniva da chissà dove. Faceva un rumore e ne mette paura, e mi ha fatto fare 4 errori dentro a un'addizione. La seconda volta è stata 11 anni fa, con gli reumatismi. Non mi muovo mai, ma non c'ho tempo per girare un solà, io sono uomo serio. La terza volta è chila. Dunque, dicevo, 500 milioni... Milioni de che? Disse il principetto. L'affarista capì che non c'aveva speranza di stampare. Milioni de quelle cose che se vedo non ce l'ho qualche volta, gli rispose. De mosche? Ma no, quelle cosette che brillano. De lucciche? Ma no, de quelle cosette brilluccicose che fanno vinili idee strane a chi non c'ha niente da fa. Ma io non c'ho tempo da perdere con la fantasia. Ah, de stelle! Eccice, de stelle. E che ce fai con 500 milioni de stelle? 500 milioni, 622 mila, 631. Io sono uomo serio, sono uomo preciso. E che ce fai con ste stelle? Che ce faccio? Sì. E niente, ce l'ho. Tu c'hai le stelle? Sì. Ma io ho già visto un re che... Li re non c'hanno niente de loro, regnano e basta, è diverso. E a te che te serve averci le stelle? Mi serve per essere ricco. E a te che te serve essere ricco? Per comprarci le altre stelle se qualcuno le trova. Questo qui è come l'imbriagone, pensò il principetto. Però fece un'altra domanda. Come si fa averci le stelle? E a chi ne so? Gli rispose l'affarista stringendo gli denti. Non lo so, non lo sa nessuno. Allora so le mie perché ci ho pensato per primo. Abbasta questo? Certo, quando trovi un diamante che n'è di nessuno diventa tuo. Quando non trovi un'isola che non è di nessuno diventa tua. Quando c'hai un'idea per primo la fai brevettà e diventa tua. E io c'ho le stelle perché nessuno prima di me si è sognato mai di piassere. Questo è vero, disse il principetto. Ma che ce fai? L'amministro. Le conto e le riconto, disse l'affarista. È una cosa difficile. Ma io sono uomo serio. Al principetto ancora non gli sfaciolava tutta sta cosa. Se io c'ho un fazzoletto di seta me lo posso mettere attorno al collo e portammelo via. Se c'ho un fiore lo posso cogliere e portammelo via. Ma tu non ti puoi cogliere le stelle. No, ma le posso mettere in banca. Che vuol dire? Vuol dire che scrivo su un pezzetto di carta quante stelle c'ho e poi chiudo il foglietto dentro al tiratore. Tutto qua è abbasta. Il principetto pensò è divertente, è pure un po' poetico, ma non è una cosa seria. L'idea del principetto sulle cose serie erano parecchie diverse da quelle degli grandi. Io, disse il principetto, c'ho un fiore e l'annaffio tutti i giorni. C'ho tre vulcani e gli pulisco il cammino tutte le settimane. Perché pulisco il cammino pure di quello smorzato, non si sa mai. Al fiore e agli vulcani gli fa gioco di esserli mia, ma per le stelle tu a che gli servi? L'affarista oprì la bocca per rispornogli, ma non gli venne niente. E il principetto se n'annò. I grandi so proprio straordinari, si disse fra deser principetto mentre viaggiava. Capitolo quattordici E il quinto pianeta era proprio strano. C'è stava appena il posto per un lampione e per l'amo che l'appicciava. Eccolo qua. Al principetto non gli arisciva di capì che potevano servì un lampione e un lampionario. Così, spersi nel cielo, sovra un pianeta, senza casa e senza l'abitante. Eppure disse fra sé Forse st'uomo è proprio assurdo, però è meno assurdo del re, del vanoso, dell'imbriacone, dell'affarista. Almeno il lavoro suo c'ha un senso. Quando appiccia il lampione suo è come se facesse nasce una stella di più, oppure un fiore. Quando che spegne il lampione suo fa dormire il fiore o la stella. È un lavoro bellissimo. È utile per davvero, perché è bello. Mentre che saliva sul pianeta, salutò l'uomo. Buongiorno, perché smorsi il lampione tuo? È la consegna, gli ha risposto il lampionario. Buongiorno. E che dè la consegna? Ed è da smorzare il lampione mio. Buonasera. E lo riappicciò. E mo' perché la riappicci? È la consegna. Non capisco, disse il principetto. Non c'è sta niente da capire, disse l'uomo. La consegna è la consegna. Buongiorno. E smorzò di nuovo il lampione. Poi si asciugò la fronte con un fassoletto a quadri rossi. Faccio un lavoro terribile. Una volta se poteva fare. Appicciavo la mattina e smorzavo la sera. Escevo tutto il giorno per riposarmi e il resto della notte per dormire. E dopo è cambiata la consegna? Gli disse il principetto. La consegna non è cambiata, gli disse il lampionario. È proprio questa il dramma. E il pianeta ogni anno ha girato sempre più sberto. E la consegna non è cambiata. E beh, disse il principetto. E beh, adesso che fa un giro al minuto, non c'è un attimo di riposo. Appiccio e smorso. Una volta al minuto. Appiccio e smorso. Gagliardo! Quali giorni durino solamente un minuto? Non è per niente, Gagliardo, disse l'uomo. Lo sai che è un mese? È un mese che stiamo a parlare e te? Un mese? Sì, trenta minuti, trenta giorni. Buonasera. E riappicciò il lampione. Il principetto lo guardò e debotto sentitevole bene a quell'uomo, che era da così fedele alla consegna sua. Si ricordò degli tramonti che lui si andava a cercare spostando la sedia. E poi l'aiuto all'amico suo. Lo sai, io so una maniera per fatta riposare quando te pare. Ma andrebbe di sentirla? disse l'uomo. Perché se può essere fedeli e scansa fatiche all'istesso tempo. E il principetto ieri fece. E il pianeta tuo è talmente piccolo che lo puoi girare con tre passi. Abbastanza che cammini piano piano e rimanchi sempre al sole. Quando te vuoi da riposare, cammini e il giorno dura fino a che te pare. Non mi serve a niente, disse l'uomo. Quello che mi va è soprattutto te dormi. Te dice male, disse il principetto. Mi dice male, disse l'uomo. Buongiorno. E smorso all'ampione suo. Disse fradeser il principetto mentre che proseguiva il viaggio. St'uomo farebbe schifo a tutti i latri che ho visto. Al re, al vanoso, all'embriacone, all'affarista. Eppure è l'unico che non mi pare ridicolo. Forse perché anziché di lui stesso si interessa di un'altra cosa. Fece un sospiro e disse fra sé. Questo è l'unico che me lo poteva far diventare amico. Ma il pianeta suo è davvero troppo piccolo. Per due non c'è sta a posto. Quello che al principetto non gli annava di disse Era il fatto che sto pianeta benedetto C'aveva ogni 24 ore 1440 tramonti. E a lui gli erodeva proprio. Perché i tramonti gli piacevano una cifra. Capitolo 15 E il sesto pianeta era dieci volte più grosso. Ci abitava un vecchio che scriveva certi libri enormi. Eccolo qua. Ecco l'esploratore, disse quando che vide il principetto. E il principetto si è messo a sedere su un tavolo. Perché ci aveva un po' di fiatone. Stava in viaggio da parecchio tempo. Da dove venghi? Gli domandò il vecchio. Che adesso, librone? Disse il principetto. Che ci stai a fare qua? Io sono un geografo, disse il vecchio. E che è un geografo? È un studioso che sa in dove che stanno I mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti. Cagliardo, disse il principetto. Finalmente questo è un mestiere vero. E diede l'occhiata a tutto il pianeta del geografo. Fino da allora non aveva visto niente di così grosso. È bello il pianeta vostro. Ci stanno i mari? Non lo posso sapere, disse il geografo. Ah, il principetto era un po' deluso. E le montagne? Non lo posso sapere, disse il geografo. E le città? E i fiumi? E i deserti? Manco di questi lo posso sapere, disse il geografo. Ma voi siete un geografo? Esatto, disse il geografo. Ma non sono esploratore. Non c'è manco un esploratore. Non è il geografo che va a fare il conto delle città, degli fiumi, delle montagne, degli mari e degli deserti. Il geografo è troppo importante, per andare in giro. Sa sempre nell'ufficio suo, ma riceve gli esploratori. Gli fa le dimande, e se pia l'appunti delle ricordi loro. E se le ricordi di uno di loro gli pare non interessanti, il geografo fa fare l'inchiesta sulla moralità dell'esploratore. Perché? Perché se l'esploratore fosse buciardo, farebbe un casino negli libri del geografia. Eppure uno esploratore che si ambriagasse. Perché? Gli addimando al principetto. Perché quando uno si ambriaga, vede doppio, e allora il geografo pierebbe nota delle due montagne dove invece ce ne stava una sola. Io conosco qualche d'uno che sarebbe un esploratore cattivo. Si riferiva all'imbriagone del pianeta precedente. Può essere. Dunque, quando che la moralità dell'esploratore pare che è buona, se fa un'inchiesta sulla scoperta sua. Se va a vedere? No, è troppo difficile. L'esploratore deve da portare le prove. Per esempio, se ha scoperto una montagna nuova, deve da riportare un po' di eserci. All'improvviso, il geografo si è messo a piangere. Ma tu, ma tu vengi da lontano? Tu sei un esploratore? Come devi da descrivere il pianeta tuo? E il geografo aprì il registro. Temperò la matita. I rese conti dell'esploratore si annotano prima a matita. Poi, dopo che l'esploratore ha portato le prove, si trascrive una penna. Allora? Chiese il geografo. Oh, è il pianeta mio, disse il principetto. Non è tanto interessante, è talmente piccolo. C'ho tre vulcani, due attivo e uno smorzato. Non se sa mai. Non se sa mai, disse il geografo. C'ho pure un fiore. No, noi non pigliamo nota delle fiori, disse il geografo. Perché? Sono la cosa più bella. Perché le fiori sono effimeri. E che vuol dire effimeri? Le libri di geografia, disse il geografo, sono i libri più preziosi fra tutti i libri. Non passino male e moda. È difficile che una montagna cambia di posto. È difficile che il mare si asciuga. Noi parliamo delle cose eterne. Ma li vulcani smorzati se vanno risveglià, rinterrumpe il principetto. Che vuol dire effimero? Che li vulcani siano smorzati o attivi per noi è lì stesso, disse il geografo. Per noi quello che conta è al monte. Lui non cambia. Ma che vuol dire effimero? Gli ha ripetetto il principetto che in vita sua non aveva mai rinunciato a una dimanda una volta che l'aveva fatta. vuol dire che sta per sparì in poco tempo. E il fiore mio è destinato a sparì? Certo, il fiore mio è effimero, disse fra sé il principetto. E c'ha solo che quattro spine per difendere d'armonno. E io l'ho lasciato solo. E per la prima volta gli è piò un po' di rosigarello. Ma se fece coraggio. Che mi consigliate da andare a visita? E il pianeta terra, gli è rispose il geografo. Ne parlano bene. E il principetto se ne annò pensando al fiore suo. e per oggi ci fermiamo qui con la lettura del nostro amico principetto e vediamo questi tre nuovi personaggi che ci hanno che ci ha presentato il principetto. Allora, eccoli qua. C'è l'affarista che è un uomo che vuole diventare ricco pensa solo ad avere più cose che gli altri non hanno. Poi c'è il nostro lampionario che passa tutto il tempo a fare il suo lavoro. Accende e spegne il lampione. Accende e spegne il lampione. Quindi è vero che fa un buon lavoro ma pensa sempre e solamente alla consegna. e poi c'è il nostro geografo che invece anche lui fa un buon lavoro ma solamente delle cose durature quelle che come le montagne non spariscono come i mari non si asciugano e non alle cose effimere quelle che durano un po' di meno a cui dovremo comunque pensare. Quindi qual è la nostra attività del teatrino di oggi? scegliere uno di questi tre personaggi quello che ci piace di più quello che ci rassomiglia di più in uno di questi difetti o pregi che ha e lo andiamo a costruire o nel modo semplice con il nostro stuzzicadente lungo e il nostro disegno fotocopia bello colorato e ritagliato a cui andiamo a mettere dietro il nostro stuzzicadente e così scelto un personaggio lo costruiamo in questo modo veloce e semplice se invece vogliamo farlo un po' più creativo come al solito ormai abbiamo capito che c'è un altro modo ed è prendere il nostro scottex la nostra palla ricoprirla di con un foglio oppure con foglie e acqua e colla vinilica farla asciugare decorarla attaccarla sul nostro rotolo e poi formare costruire decorare il personaggio che abbiamo scelto quindi o l'affarista o l'ampionario o il nostro geografo mettendogli il vestito facendo anche degli oggetti di scena ad esempio il geografo aveva questo grande librone il lampionario aveva il lampione vicino e una specie di candela lunga con cui accendeva il lampione oppure il nostro affarista pure aveva dei foglietti dove appuntava tutti i suoi conti quindi possiamo oltre che decorare il nostro personaggio con pezzi di soffa pezzi di carta carta crespa carta vellina quello che volete voi e tirar fuori il personaggio che avete scelto anche costruire qualche piccolo oggetto che serve a questo personaggio ed infine per mantenerci in forma la nostra attività teatrale anche questa volta è su uno di questi tre personaggi quindi sceglietene uno e poi farete un mini monologo di presentazione quindi potete vestirvi mascherarvi truccarvi secondo il personaggio che avete scelto e poi fare una presentazione un monologo di questo personaggio che avete scelto dicendo chi è che fa come si comporta scegliete voi e naturalmente voi potete farci il video e vedere che presentazione è uscita fuori allora in attesa di queste vostre bellissime performance vi lascio con una frase del nostro amico principetto che dice gli adulti non capiscono mai niente da soli ed è una noia che i bambini siano sempre eternamente costretti a spiegare loro le cose e con questo ci salutiamo e ci aggiorniamo alla prossima lezione ciao ragazzi buona serata